gentili telespettatori buona giornata un'ombra cupa plumbea gotica su aleggia sul governo draghi l'ombra cupa della crisi giovedì il presidente del consiglio draghi si presenterà in parlamento per parlare per riferire sullo stato delle cose della crisi internazionale di quello che è il punto sull'economia e così quest'ombra di crisi aleggia sempre più cupa e oscura su mario draghi e i suoi ministri complice la lunga serie di strappi e distinguo del movimento 5 stelle di giuseppe conte e poi la questione degli invii gli aiuti i rinvii gli aiuti di nuovo conte e i suoi ministri e politici per caso chiedono un voto e una discussione in parlamento giovedì così draghi si presenterà per riferire sulle cose su quello che lui vede e dice anche alla luce fitta delle interlocuzioni tra lui il premier e i partner internazionali sarà un'informativa che non prevede nessun voto in effetti che cosa cacchio si deve votare se uno informa di qualcosa non deve votare vedo il cielo che si fa sempre più scuro vento nubi non c'è nessun voto non c'è niente da votare su un'informativa occorrerà presentare una mozione discuterla in conferenza dei capigruppo calendarizzarla tempi troppo lunghi da una parte potrebbe essere un vantaggio per il governo che potrà prendere tempo sperando che la strada diplomatica alla soluzione della crisi finirà per essere quella battuta dai contendenti in campo ma no io vi dico una cosa i dittatori quelli che sono a capo di stati totalitari dove non c'è democrazia non si siedono ai tavoli a trattare i dittatori vogliono vincere non esisterà mai putin seduto a un tavolo a trattare assolutamente toglietevelo dalla testa chiunque se lo può togliere dalla testa quindi quell'aspettare che i contendenti in campo si siedano è tempo perso non si siederanno mai a trattare per questa ragione il segretario dem tenta di raffreddare gli animi dice io per quello in cui credo per il modo di essere del mio partito l'ultima cosa che temo è andare in parlamento ci saremo giovedì prossimo ascolteremo draghi interverremo ci saranno passaggi che richiedono dei voti li faremo però i grillini hanno tanti voti più quelli della lega sono tanti però dall'altra parte c'è fratelli d'italia che è assolutamente d'accordo con il governo sulla crisi internazionale arrivando a sorrento per partecipare al forum organizzato una mara carfagna enrico letta pare sicuro sulla tenuta del governo basta prendere una calcolatrice fare due conti ed è fatta dice non ho nessun dubbio che questo governo arriverà alla fine naturale della legislatura e che sia l'ultimo governo della stessa dice letta con una rassicurazione che suona anche come un avvertimento come dire nessuno pensi di approfittare per strappare un rimpasto e accontentare chi all'interno dei partiti reclama ruoli di primo piano insomma se cade draghi si va al voto con tutto ciò che ne consegue per chi aspira a essere ricandidato in un parlamento a ranghi ridotti per il taglio dei parlamentari qual è il monito di di letta dice questo non ci sono rimpasti di governo il governo non cade ma se cade tutti a casa perché con i tagli dei parlamentari i sondaggi che vedono i partiti cambiati molti avranno perso il lavoro per sempre e sempre e sempre letta poi aggiunge chiaramente se ci fosse una crisi ora si andrebbe alle urne magari ma arriveremo fino alla fine perché il paese ha bisogno delle riforme chieste per il pnrr no letta arriveremo fino alla fine perché i parlamentari raggiungono la pensione il 22 di settembre quattro anni sei mesi un giorno e poi come dice lui letta con il taglio dei parlamentari molti sarebbero disoccupati e allora il governo non lo farà cadere nessuno perché non conviene a nessuno ma in fondo neanche a giorgia meloni perché piano piano sta salendo nei sondaggi acquista sempre più forte più forza nei confronti dell'invidiosi alleati specie di alleati che c'ha adesso ha fatto il record nei sondaggi al 22,6 non era mai arrivata così in alto e di conseguenza gli altri partiti del centrodestra poi bisogna pescare anche molto nell'astensionismo molti leghisti delusi si sono rifugiati nell'astensionismo però adesso dopo mesi di astensionismo cominciano a dire beh forse è meglio che ricollo col mio voto là in fratelli d'italia se ci fosse una crisi ora ripete letta andiamo a votare ecco andiamo a votare anche oggi il presidente del movimento 5 stelle invia i segnali dice c'è una misura a me molto cara per il mezzogiorno da rendere strutturale che invece in scadenza la decontribuzione per il sud vorrei sapere il governo cosa ne pensa ma te lo posso dire io senti conti il problema è che al sud delle fabbriche non ci sono che cosa decontribuisci che mancano proprio le fabbriche proprio non c'è la fabbrica tu puoi decontribuire quando c'è una fabbrica ma se non c'è che cosa cacchio ti decontribuisci comunque ognuno butta le sue le sue proposte è meglio avere proposte che che non dire niente come letta parole che però sembrano rimarcare la distanza tra 5 stelle e governo dal pd dicono rimangono tesi i rapporti con i con il 5 stelle anche dopo il duro confronto fra letta e conte di pochi giorni fa letta in ogni caso è fermamente intenzionato a tenere il punto e cioè sostegno al popolo ucraino da parte del governo come fatto finora lo pensa anche conte ma deve dire così perché sta cercando di raccattare qualche voto arrivederci a tutti e grazie